ok ragazzi andiamo facciamo un'altra partita per la scalata in divisione ok l'ultima partita non è andata benissimo però 9 a 1 5 a 0 4 a 1 che non persa una non mi interessa non mi interessa proprio ragazzi allora possiamo ripartire vediamo un po che avversario mi capita ho tolto liberi e tiago per il momento magari più avanti li allenerò e poi come troverò un allenatore ok perfetto ci siamo capiti insomma ci siamo capiti ok vediamo un po cercherò di impegnarmi un pochettino di più in questa partita ho rimesso isco candreva vediamo un po da almeno il ts lo riporta al 99 e io cercherò di impegnarmi un po di più vabbè l'ultimo avversario era anche forte però anche due gol gli ho regalati io è uno il difensore che si non mi interessa non parlo più delle partite dietro pensiamo a queste che andranno avanti e così via vai ragazzacci andiamo andiamo vediamo un po si ma trova mio avversario però che non è che posso perdere tutto questo tempo solo per trovare un avversario è ok dai niente non ce la fa e non ce la fa ragazzi non ce la può fare non ce la può fare ah bene oggi mi capitano tutti fenomeni ok da 7 e 90 8 e 50 ok bene così perfetto vabbè neymar ormai ce l'hanno anche anche vabbè morata di maria neymar vabbè questo qui ragazzi per avere questi punti o è un fenomeno staremo a vedere staremo a vedere allora neymar comunque ce l'ho anch'io però allora divisa vediamo un pochettino vediamo un po' eh ecco perfetto così lo stadio magari mettiamo san siro questa volta no ok notte estate sereno calcio di inizio questo qui ora o è un fenomeno che ha tutti questi punti adesso vedremo tutti a me capitano adesso ragazzi e tutti a me stanno capitando tutti a me vabbè capitano tutti a brado ragazzi tutti a brado capitano va bene va bene va bene me ne farò una ragione me ne farò eh tranquilli che me ne farò una ragione ok vediamo un po' dai vediamo un po' dai ce la posso fare ce la posso fare o no eh adesso ragazzi vedremo qui perché ora è difficile 8 e 57 questo di ranking salve a tutti benvenuti a San Siro la scala del calcio lo stadio di casa di due tra le squadre italiane più celebri e titolate Milan e Inter vai eh eh io ci provo ragazzi ciao Fabio ci io ci provo ragazzi però cos'è cos'è ah questo qui parte già eh sa giocare o è stato un caso vediamo va vediamo vai Robben ottimo Robben così ti voglio non ho capito che questo pass ha questi rallentamenti durante la partita questi piccoli scazzi che ogni tanto fa vabbè questo qui sa giocare ragazzi si vede subito ma non devo farmi intimorire no sulla destra l'azione si stava facendo pericolosa ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo dai grande Robben Robben ottimo così ai 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 sarebbe stato bello subito un gol così ragazzi vabbè dai ah non ho Neymar è in panchina vabbè batti che Andreva dai pensaci tu che Andreva dai non sarai come Neymar però vediamo un po' se te la cavi ma insomma una conclusione per parte una conclusione per parte si ah questo qui ha piazzato di Maria lì grande Neuer grande Neuer ti voglio così ti voglio così Neuer no cosa cazzo no 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 vabbè ragazzi no 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 non ci credo no no non ci credo ho premuto il cerchio no no vabbè no 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 bravo eh bello per il gol li sto regalando i gol no no vabbè mi devo fermare io ragazzi mi serve un po' di pausa è il momento che mi colpisce adesso no vabbè vai a fare il suo no vabbè spacco tutto oggi ragazzi ma non è per qualcosa è che il secondo gol ci può stare ma il primo ecco qui il campione dei quasi 900 di rating gol regalato e vabbè non aggiungo altro eh vabbè però è forte ragazzi è forte ora ce le sto prendendo eh tutti a me gli avversari forti oggi tutti a me li danno se li conservano com'è eh però se poi tiro e a me in porta non ci va eh questo comunque sa giocare più dell'avversario precedente questo posso dirlo eh intercettato tempestivamente l'azione poteva diventare davvero pericolosa eh vabbè eh va bene non c'è problema ragazzi ho le partite anche se perdo le carico non faccio come altri youtuber che senza fare nomi che vogliono fare gli esperti di pass e poi il ballone per me vuole la profondità occasione tenta la conclusione ottimo noia eh ma è devastante questo qui ragazzi è devastante è devastante questo qui sa giocare vabbè non riesco ad incidere vabbè per il momento per il momento niente eh Robin niente non ce la metti la nota qui eh l'arbitro non ha dubbi calcio di punizione ah punizione ah bene poi a me mi atterrono in area di vigore non fischia ebbè queste stronzate qui le fischia beh ottimo io direi ottimo ragazzi eh suare cr7 cr7 se magari scatti ok ottimo così vai ottimo così ragazzi ottimo così almeno un gol della bandiera lo faccio non come altri youtuber che restano a zero almeno anche con questi forti il mio gol della bandiera c'è eh però qui recuperano tutto questi ragazzi recuperano tutto vabbè questo è più i giocatori non so drogati eh non lo so io ragazzi a tutte le parti stanno ottimo così ottimo dai ottimo così ragazzi dai credo che non abbia nemmeno guardato la porta la sentiva ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto si riparte con due questo qui ragazzi è forte non c'è storia sa giocare eh però questi falli qui eh però eh no no dai poi fischia le stronzate dai le stronzate le fischia i falli importanti eh vabbè pallone intercettato intervento davvero provvidenziale Rakitic Robben prova il filtrante vuole la profondità palla per Robben non ci combiniamo niente ok però ragazzi almeno i miei due gol li ho fatti eh almeno due gol li ho fatti contro un avversario poi sono altri youtuber che perdono 16 a 0 contro i cessi eh eh e vabbè eh questo qui è devastante ragazzi i giocatori fanno tutto a pennello quello che vuole lui vabbè come affronteranno l'inizio non gli sbagliano nulla ah recupera anche lì eh fantastico no ma no dai poi il primo gol l'avete visto quello lì ma è noi era un bel rinvio come sai fare tu con la speranza che Robben gli agganciava la palla ma è Emma Maiara questo ma scherziamo assurdo ragazzi assurdo ah te l'assurdo e sono tre e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori beh la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta vantaggio di tre reti piuttosto rassicurato dai però vabbè ragazzi non ho miseria cioè tutti avversari forti a me vabbè non è che mi da uno di 600 650 no me da due di fila da 800 e 790 e 900 vabbè si però i falli no vabbè non li fischia i falli a me no non li fischia ah è passato attraverso come se era un muro no cioè trasparente no invisibile vediamo un po' qui eh non so se mettere Messi no no che faccio no Ronaldo no non esiste poi mettiamo per il momento nessuno va bene così ok andiamo ragazzi va andiamo uh uh non ci credo questo qui è forte ragazzi è forte eh un avversario veramente forte dai 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 intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore ecco la respinta del portiere ma è così si fa avanti in territorio nemico era troppo facile da passare con il filtrante eh sì occhio può andare Lussa si soccura palla in avanti verso il compagno trova il filtrante Robben eh io tento ragazzi ma questo qui è forte ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione e la difesa non si fa cogliere in preparata in qualche modo sono riusciti a cavansere dai ma Robben eh niente niente non si sgancia Robben passaggio in avanti ma così dai almeno un altro gollo voglio fare lo vorrei fare dai voglio ecco qua perfetto perfetto ragazzi perfetto ok comunque anche con questi forti a zero non ci resto io ah ah sono soddisfazioni lo stesso la difesa fa il suo allontano la palla che botta tutto fermo dai dopo questa partita sotto a rifare GP brado su andiamo andiamo vai Robben scatta avanti Robben prova la giocata nello spazio eh Messi non accedera lì eh eh copre questo qui ragazzi è bravo è bravo ecco qui ha avuto un po' fortuna perché gli si spizzavo con Messi tanto ragazzi ormai la partita è persa è inutile che metto Neymar a sprecare un contrasto e così via vabbè ho perso contro due avversari altri lating ci può stare io mi incazzo se perdo con i cessi lì che mi incazzo io dai è uscita e si purtroppo purtroppo disco dice era ben posizionato e intercettato il pallone ha la possibilità di andare verso la porta vuole la profondità e te pareva e te pareva andiamo 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 e dai però ragazzi dai risultato che ci può stare con magari 4 a 2 perché il primo gol l'avete visto è stato regalato via ora sto coprendo bene in difesa ora che che è tardi vabbè ragazzi dai ho perso contro un avversario di tutto rispetto quindi però due gol li ho fatti quindi vabbè non c'è stata storia non c'è stata storia qui ragazzi vabbè dai 3 vittorie e 2 sconfitte per il momento in divisione 9 quindi vediamo quanti punti occorrono per passare in divisione 8 ok ah che andrea sale di livello ragazzi perfetto ok con un'altra vittoria vado in divisione 8 sì perfetto vai ho altri 800 gp che non me ne faccio nulla oramai devo pagare anche Dechamp ah anche Suarez ok contratto scaduto da rinnovare perfetto perfetto va bene un risito ti rinnovo appena avrò un po' di gp ti rinnovo allora ragazzi anche questo gameplay di PS si conclude qui due sconfitte consecutive con due avversari di tutto rispetto ci sentiremo con i prossimi gameplay ciao a tutti al vostro DiabloTex smack and roll bye whoa 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 Grazie a tutti